Salve a tutti senza luce, benvenuti in un nuovo video qui su Top Games. Io sono Samuel ed oggi andiamo a parlare del morbo mortale e di quanto in realtà sia inquietante, di quante implicazioni cruente possa nascondere. Partiamo da un presupposto. Ogni volta che noi giocatori moriamo per mano del morbo mortale, il nostro corpo viene dilagnato da un sfracasso di radici nere che esplodono dal nostro corpo ed infine, visto che non stiamo già soffrendo abbastanza, ci impalano. Tanto per gradire. E già che siamo in argomento, per rispondere ad un commento che ho letto in precedenza, non mi ricordo chi tu sia, perdonami, no, i giganti del fuoco non sono morti per il morbo mortale. Come possiamo vedere, quando noi moriamo per il morbo mortale veniamo impalati in altezza e semi sdraiati, mentre i giganti morti sono inginocchiati ed impalati, come se fossero stati uccisi dall'alto verso il basso. Ma tornando a noi, visto che fanno parte dell'animazione della morte, osservare questi rami oscuri è davvero difficile in un gameplay totalmente regolare. Ma il nostro corpo non è l'unico punto nel quale possiamo vedere questo schifo, perché di fatti queste radici sono sparse per il mondo e le troviamo ad esempio sul corpo di Godwin, oppure sulle gambe di Rogier se riusciamo in qualche modo con qualche modo a rimuovere il telo e le troveremo su di lui alla tavola rotonda dopo che ha studiato il corpo di Godwin nascosto sotto il castello. Ma quello di cui volevo parlarvi in questo video, o meglio farvi notare, è che quelli che possono sembrare degli spunzoni, delle punte insomma, che escono dalle radici, sono in realtà delle ali d'insetto. Questi insetti effettivamente compaiono sia attorno al corpo di Godwin, sia attorno alle gambe di Rogier, ed infine appaiono anche nella nostra animazione di morte. E qui parte un'implicazione davvero davvero inquietante. Questi insetti non sono arrivati lì attratti dal morbo mortale. Nascono, sono prodotti dal morbo mortale. Ma prima di continuare a parlare di fatti inquietanti, voglio ritagliarmi il tempo per ringraziare chi ci supporta con mi piace, commenti e descrizioni, ma soprattutto quegli utenti che hanno deciso di supportare il canale con donazioni ed abbonamenti. E siete davvero tantissimi! Quindi partiamo con i ringraziamenti! Ed andiamo a ringraziare Che sono gli abbonati! Quindi grazie ragazzi per il vostro supporto, ma un ringraziamento speciale va anche a quelli che hanno deciso di donare al canale. Quindi a mannaggia all'elde che l'ha fatto ben due volte, ad Antonello De Rossi, a Niccolò Doiani, a Massimo Bertoli, a Luca Roseni, a Valerio Ferrando ed infine a Sick Reverend che anche esso ha donato due volte. Ragazzi siete fantastici, torno a dire. Non saprò mai come ringraziarvi abbastanza per tutto questo supporto. Ma tornando a noi, molte delle teorie sulle quali si fonda la cosmologia di Elden Ring girano attorno a teorie scientifiche antiche o misticismo, credo si dica così, ma in particolare tutta ruota attorno all'alchimia. Ci sono un sacco di richiami ai diagrammi alchemici. Ne possiamo vedere uno persino nella runa che rappresenta la runa dell'albero madre. Quindi anche lì c'è un richiamo alchemico. E gli insetti del morbo mortale potrebbero essere ispirati da una credenza alchemica davvero antica. La teoria della generazione spontanea. Il filosofo Aristotele affermava che alcune creature, come mosche e simili, insomma altri creaturine così schifose, potevano semplicemente generarsi o manifestarsi da oggetti senza vita. Insomma, le mosche secondo lui non si riproducevano in modo alcuno, ma si creavano spontaneamente da fango, sabbia, possibilmente cacca immagino, e carne in decomposizione. In parole povere, se lasciate un pezzo di carne fuori dal frigo troppo a lungo, mosche e simili sarebbero inevitabilmente apparse dal nulla di volontà propria. Ed immaginate quante mosche c'era una volta che non esistevano i frighi. E poi, magari vi sembrerà assurdo, ma questo fatto era accettato tranquillamente da tutti per anni. È stata ripresa in considerazione questa idea, questa teoria, appena nel 1800. E a questo punto, per ritornare a parlare di Elden Ring, potremmo pensare che, viste le ali che emergono dalle radici, From Software abbia deciso di creare il concetto base del morbo mortale basandosi su questa linea di pensiero, o ci si sia ispirata. Difatti, questi insetti non avrebbero un normale ciclo vitale, bensì si formano volontariamente dalle radici del morbo. Come se già così non facesse schifo, la situa, durante l'animazione di morte, possiamo vedere un sacco di vermi uscire dal corpo del giocatore in un'esplosione di sapore e di gusto. E, vabbè, a parte le cavolate, questo potrebbe inoltre collegare Godwin e di Warm Face. Faccia di verme, vabbè, questi cosi qua vi metto uno screen che faccio prima. Potremmo dunque capire l'origine anche di queste mostruose creature, e tra l'altro, per capire di cosa stiamo parlando, vi consiglio di recuperare il video in cui ho trattato la storia di Godwin, il principe della morte, ve lo lascerò qui sopra da qualche parte o in fondo al video. Lo ammetto, tutta questa enorme teoria di cui vi ho parlato fino ad ora potrebbe essere palesemente esagerata. Un enorme viaggio di fantasia legato ad un piccolo dettaglio, ma questo, almeno per me, è il classico effetto che genera un titolo di From Software. Non avendo delle spiegazioni scritte logiche, si viaggia di fantasia, e con un po' di fantasia, un po' di credenze popolari che potevano aver ispirato, ed infine un po' di logica per incastrare il tutto, si possono creare delle teorie davvero pazzesche. Ma come al solito, adesso tocca a voi. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi ho viaggiato troppo di fantasia, o la teoria può effettivamente reggere, se la trovate interessante. Insomma, discutiamone assieme nei commenti come facciamo di solito. Detto questo, direi che è giunto il momento di salutarci, e per voi è giunto il momento. Se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciare un like per supportarci e commentare qui sotto, senza dimenticare di guardare la descrizione in cui troverete un sacco di link interessanti, come il nostro profilo TikTok, il gruppo sconti per gamers poveri, le persone che vi consigliamo di seguire, un sacco di collaboratori, la wishlist di Amazon che non serve a una pippa ma c'è, e non so neanche cosa c'è dentro tra l'altro. Beh, insomma signori, ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere cosa ne pensate del morbo mortale. Ciao a tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate del morbo mortale.